La storia del graffio Non so perché dalla telecamera non si vede Ma ci sono due graffi Uno qua e uno qua Chi me l'ha fatti? Una persona Un bambino Stavamo giocando tranquillamente A prendi prendi Mentre sto qua Stavo salendo sullo scivolo Per prenderlo E mi ha fatto sti due graffi Bene Le maestri non si sono preoccupate neanche un po' Non hanno fatto niente Fanno schifo sti maestri Non hanno fatto niente Però Da quel giorno non l'ho mai perdonato Gli ho sempre dato il suo stilio E gli è successo pure il karma Più di tante volte Gli ho successo il karma a quella persona Quindi Sempre avete imparato la lezione Da quel giorno Poi sono diventato anche il più forte della classe E che fino a Un anno fa Ero tipo Il più cattivo della classe E tutto questo Per colpa Sua C'è ancora scuola La scuola mi ha seguito E direi Che io la fustiglio ogni volta Fino a quando non cambierà scuola Ehi ragazzi Come si è giusto Ero tipo basico Ero tipo basico